Salve a tutti, oggi vediamo come fare uno screenshot su Windows 10. Innanzitutto cos'è uno screenshot? Semplicemente è una cattura dello schermo, letteralmente, ovvero salvare tutto quello che stiamo facendo come immagine. Vi mostrerò due sistemi, uno rapido che cattura tutto lo schermo, quindi dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, e poi vi mostrerò il tool integrato già in Windows 10 che vi consente di catturare una porzione di schermo, tutto lo schermo, e di fare anche qualche cosina. Allora, intanto per il sistema rapido è molto molto semplice, semplicemente noi teniamo premuti il tasto di logo di Windows, quello che trovate in basso a sinistra nella tastiera tra il CTRL e l'ALT, quindi il logo di Windows e il tasto STAMP che trovate sopra in alto accanto al tasto F12, quindi il tasto STAMP. Vedremo che lo schermo si oscurerà, proviamo, ecco qua, si oscurerà per un secondo e salverà il nostro screenshot. Allora, dove è stato salvato? Semplicemente andate qua in una nuova cartella, aprite l'opzione immagini e qua in screenshot troverete l'immagine salvata, ed eccola qua. Quindi questa è tutta l'immagine a schermo pieno. Se invece vogliamo catturare qualcosa di più piccolo, una porzione di schermo e farci anche qualche cosina, allora possiamo usare il cattura. Andiamo qua in circa in Windows e scriviamo cattura. Strumento di cattura, eccolo qua, lo apriamo. Nuovo, quindi nuovo strumento di cattura e adesso ci chiede qual è la porzione di immagine che vogliamo catturare, quindi ad esempio io voglio solamente prendere questa parte. Rilascio con il click ed ecco qua, è stato salvato. Poi adesso possiamo utilizzare questi strumenti, penna rossa, penna blu, penna rera, per fare qualche freccia, qualche segno, se vogliamo mostrare qualcosa di ben preciso possiamo usare questi tool, questa è la gomma per cancellare. E poi ovviamente faremo file, salva con nome, salveremo lo screenshot come immagine. Tutto qua, questi erano due sistemi per fare uno screenshot su Windows 10. Un saluto a tutti.